L'unità iOmega Ego Hard Drive USB 3 rende il backup di tutti i video, musica e foto sul PC più rapido che mai. Grazie alla recente tecnologia SuperSpeed USB 3, è possibile condividere e trasferire file con una velocità fino a 10 volte superiore rispetto alle soluzioni USB 2. Ideale per i file di grandi dimensioni come video e foto. Ora è possibile salvare questi contenuti sul disco rigido in pochissimo tempo. La capacità di storage fino a 2TB consente all'unità Igo Desktop Hard Drive di offrire tutto lo spazio necessario per l'archiviazione dei contenuti digitali. E ancora di più. Inoltre il design si combina perfettamente con la scrivania. L'unità iOmega Ego Portable Hard Drive coniuga la tecnologia USB 3 SuperSpeed con un design compatto, lucido ed elegante. Una soluzione per gli utenti di PC Laptop capace di attirare subito l'attenzione quando la si toglie dalla borsa per collegarla al PC. Grazie all'alimentazione tramite USB e alla capacità di storage fino a 500 GB, l'unità Ego Portable Hard Drive è la soluzione migliore per il trasporto ovunque ci si trovi. Per le massime prestazioni è necessario disporre di un PC con porta USB 3. L'unità è compatibile anche con le porte USB 2. Inoltre una scheda adattatore facoltativa è venduta separatamente per effettuare l'upgrade del PC dalla tecnologia 2.0 a quella SuperSpeed USB 3. L'unità Ego Portable Hard Drive dispone anche di iOmega Drop Guard, una funzione che aiuta la protezione dell'unità contro le cadute da un'altezza massima di 130 cm. Sia il modello desktop che quello portatile sono forniti con una dotazione completa per la protezione e la sicurezza dei file, grazie alla suite di software di protezione iOmega, inclusa senza costi aggiuntivi. La gamma di unità disco rigido iOmega Ego SuperSpeed USB 3 non teme confronti. Risponde alle esigenze di storage imposte dal ritmo veloce della vita digitale. Impossibile farne a meno.